Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto Immacolata Monti, mamma della piccola Yolanda, morta per soffocamento nella sua abitazione di Sant'Egidio del Monte Albino nella notte tra il 21 ed il 22 giugno. L'arresto è stato eseguito su richiesta del PM Roberto Lenza. La donna è indagata con il marito Giuseppe Passariello già in carcere per concorso in omicidio pluriaggravato. Su di lei le indagini avrebbero raccolto elementi che confermerebbero il suo coinvolgimento diretto, non limitato quindi solo a coprire l'operato del marito. A far scattare la misura cautelare in particolare le conversazioni ambientali fra i due coniugi acquisite dagli investigatori. Una marcia silenziosa in ricordo della piccola Yolanda è stata organizzata ieri sera a Nocera Inferiore, ad idearla una mamma nocerina in Mazzinia che ha voluto ricordare i bimbi volati troppo presto in cielo. Non avrei mai voluto organizzare una marcia del genere. Quanto successo, e non solo alla piccola Yolanda, quanto è successo da gennaio ad oggi è davvero brutto, per non usare altri termini. Fa male, è una realtà troppo brutta da accettare e bisogna fare qualcosa. Noi scendiamo in piazza, scendiamo in piazza questa sera, forse non serva a niente, ma è un pensiero che noi vogliamo mandare a quei piccoli angeli lassù. Parliamo di Denise, di Matteo, di Angelo, sono tanti i nomi che ripeto da gennaio ad oggi, quindi sono pochi mesi, da gennaio ad oggi ci troviamo di fronte ad una realtà tragica. Questo perché?